Il suo trasferimento record al Real Madrid è stato eclissato da quello di Bale, ma Cristiano Ronaldo sta per far parlare di sé ancora per questione di soldi. Secondo fonti spagnoli, infatti, l'asso portoghese del Real starebbe per firmare un nuovo contratto con le Merengues, diventando il calciatore più pagato al mondo. Asse, infatti, riporta come Ronaldo e il presidente dei Galacticos, Florentino Perez, abbiano cominciato le trattative per il rinnovo da più di un anno e ora saremo ai dettagli. Pronto l'annuncio per altri tre anni che legherebbero il portoghese al Santiago Bernabeu fino a giugno 2018. 28 anni, Cristiano Ronaldo forse pensava che il suo ruolo di maschio alfa nello spogliatoio Real fosse minacciato dall'arrivo di Gareth Bale dal Tottenham, ma se questo nuovo contratto dovesse andare in porto e il pallone d'oro 2008 potrà dormire sonni tranquilli. Peccato però che non potrà scendere in campo questo fine settimana contro il Villareal per colpa di un infortunio patito in nazionale quando proprio lui, con una tripleta nel finale, ha contribuito alla grande vittoria dei Lusitani per 4-2 sul campo dell'Irlanda del Nord.